puzza tantissimo questa situazione c'è lo so che c'è qualcuno qua intorno tipo in questa casa questi dettagli l'ampresi se devo solo piantare questo piazza la piazza vuoi che ti coprono con te dai mettila mettila questo tutto tanto quelli con la taglia c'è un busto sai cosa voglio fare qua aprire le porte ah gente dall'altra parte si sono trovati due team di là ma scusa le taglie no le taglie sono qua andiamo verso quelli là prima scusa non si vuole più di concerto corti corti se tu dobbiamo metterci in acqua davanti a me eccolo qua ucciso c'è l'altro 12 qua preso nooo ma dove c'era occhio non so se hanno ucciso quel team ha una dolce uno era ferito obrezz e doppie eh la dolce l'avrei voluta volentieri ma c'ho ventola se me ne faccio un colpo un colpo gli ho dato di pistola un colpo gli ho dato di pistola questi tipo dolce nitro pur cutia aspetta sshh sshh arrivano eccolo l'ho visto l'ho visto c'è l'altro più in là mi spara mi curo eccolo c'è l'ho hit uno one shot laggiù culo là è one shot eh sta scappando là lo attacca lo zombie aspetta vediamo l'altro pure dove l'altro è rimasto più indietro eccolo eccolo pingalo l'ho visto aspetta che non vorrei che l'altro ci flanca ecco l'altro ecco l'altro l'altro è la l'altro sta sempre qua no non ha fatto vero io cambio posizione in continuazione perchè non gli voglio dar riferimento l'hai visto in mezzo al bosco sta qua e qua uno è qua guarda la camicetta bianca eh eccolo qui eccolo hai visto il nito sei troppo lontano non lo va vieni con me vieni con me eh ma c'ho un colpo vabbè mi avvicino eh puoi prendere l'arma noi siamo più lì dentro la questione scappa nella torre dietro la torre l'ho visto l'ho visto il tato è entrato dentro è entrato dentro è entrato dentro preso occhio che arriva l'altro io si riprende l'arma però ha lanciato ha lanciato mi devo curare io fra curati pure vivi ci sono vivi aspetta arrivo arrivo ok ci sono dov'è? è qui a mezzo merda devo ricaricare il fucile merda aspetta aspetta oh no marcia poi ho ho otro tantoyah lo mo me non yan si ma corri scatto aspetta c'è altra gente no vabbè fra te non hai capito te non hai capito cosa li ho appena fatto te non hai capito cosa li ho appena fatto fra tre col coltello d'ho uccisi fanculo le taglie stanno scappando ma c'è tutto ciò non ha prezzo non ha prezzo c'è questa è una roba da filmare questa da far vedere alle scuole di hunt showdown ho avuto un culo assurdo fra ho avuto tanto tanto culo con un po' in mano a 2 metri ma perchè non se lo aspettavo no non ci posso credere ahahah ahahah eh le taglie ciao ti fanno ciao le taglie guarda lì andiamo a lutarci lì tanto tu è uscita da lontano scritto questo cazzo l'ho ucciso mi ricordo ma tu qua aspetta ma dove cazzo ma come fa a questore tanto l'arma del genere ma devi starci però devi starci molto vicino perchè eccolo qua balestra nel limat ma quanto sei vicino non vicino è troppo il mirino che fa creare eh il mirino è una merda il mirino è una merda lo so ti do perfettamente ragione e poi questo dove l'ho ucciso qua allora lo scambio un secondo che mi da le munizioni nooo c'hai capito che mamma godo godo come un ridge aspetta com'è che faccio se io faccio aspetta com'è che faccio